Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come dal titolo risolverò il problema della buca di potenziale infinita. Allora, abbiamo un potenziale con questa espressione analitica, cioè che è 0 all'interno di questo segmento 0A ed infinito altrove. Bene, allora, affrontiamo prima di tutto, a livello nozionistico, intuitivo, questo problema da un punto di vista della fisica classica. Cosa succede, intuitivamente? Abbiamo una particella che rimane intrappolata tra le pareti, rimbalzando con un'energia cinetica K costante. Inoltre, questa costante, cioè questa energia cinetica, può assumere qualunque valore, ok? Qualsiasi valore, appartenenti ai reali. E quindi, in poche parole, la particella non esce da questo buco di potenziale. Dal punto di vista della fisica quantistica, dobbiamo andare a risolvere l'equazione di Schrodinger, cioè andare a trovare le autofunzioni della Hamiltoniana H. In poche parole, dobbiamo andare a risolvere l'equazione di Schrodinger, tenendo in considerazione solo le coordinate spaziali, quindi l'operatore Hamiltoniana H, ψ uguale ad ψ, dove ψ sono le autofunzioni e sono gli autovalori, che andremo poi a trovare, effettivamente, se non quantizzati. Allora, essendo le pareti impenetrabili, noi diciamo che la probabilità fuori dalla buca è uguale a 0. Come si traduce questo nel linguaggio della fisica quantistica? Cioè che la ψ di x è uguale a 0 se x non appartiene al segmento 0A. All'interno, invece, della buca, dobbiamo andare a risolvere l'equazione di Schrodinger, quindi meno h tagliato al quadrato fratto 2m, la derivata seconda di ψ rispetto alla posizione, più 0 uguale ad ψ. Questo 0 deriva dal fatto che il potenziale è nullo all'interno della buca. Allora, moltiplicando tutto per 2m fratto h tagliato, e con la sostituzione che k quadrato sia uguale a 2m e fratto h tagliato al quadrato, si ha la seguente espressione, cioè derivata seconda di ψ rispetto alla posizione, più k quadro ψ uguale a 0. Questa è nient'altro che l'espressione, un'equazione differenziale dal secondo ordine, dell'oscillatore armonico. In effetti, abbiamo la soluzione di una combinazione lineare di seno e coseno, cioè la ψ di x è uguale ad a coseno di kx più b seno di kx, con x ovviamente compreso tra 0 ed a. Questa è la nostra soluzione. Allora, per la continuità della ψ, imponiamo che la ψ in 0 e la ψ in a siano uguali a 0, cioè che a coseno di 0 più b seno di 0 è uguale a 0 ed a coseno di kA più b seno di kA sia uguale a 0. Da questa espressione, poiché il seno qua è tutto 0, otteniamo che a è uguale a 0, e di conseguenza questo termine si annulla nella seconda equazione e otteniamo che b seno di kA è uguale a 0. Non imponiamo che la costante b sia uguale a 0, quindi diciamo quando il seno è uguale a 0, quando il suo argomento, cioè kA, è un multiplo di n pi greco. E da qua otteniamo che k è uguale ad n pi greco fratto a, con n numeri interi positivi. Imponendo la normalizzazione, che è un conto che farò a fine video, quindi nel caso chi fosse interessato può andare a vederlo, si ottiene che il coefficiente b è uguale a 2 fratto radice di 2 fratto a. In questo caso, poiché k dipende da n, noi scriviamo le autofunzioni e diciamo che sono caratterizzate da questo numero quantico n, che caratterizza e individua tutte le soluzioni, cioè tutte le autofunzioni psico n della Hamiltoniana. Quindi psico n x sarà uguale a radice di 2 fratto a seno di k n x. Questa è la soluzione, con k n uguale a n pi greco fratto a. Ok? Ora, noi abbiamo questa espressione della k. Se si andasse a sostituire questa espressione con l'altra espressione in cui abbiamo detto che k quadro è uguale a 2m e fratto h tagliato, si va a trovare cosa? Gli autofalori della nostra equazione di Schrodinger, cioè gli e con n, facendo un calcolo molto semplice, si ottiene h tagliato quadrato pi greco quadrato fratto 2m a quadro n quadro. Tutto questo termine lo possiamo chiamare beta e quindi diciamo che l'energia ennesima è uguale a beta n quadro. Questi sono i miei autofalori e questi invece sono le mie autofunzioni. Ok? Allora, cosa possiamo vedere? Insomma, contrariamente dal caso classico, la particella nella buca non può avere energia qualsiasi. Sono permessi solo certi valori discriti. In effetti l'energia della particella è quantizzata. Inoltre, quando n è uguale a 1, l'energia in 1 è uguale a beta n quadro, cioè 1 al quadrato, cioè 1, cioè beta. Ok? Quindi, notiamo che con n è uguale a 1 esiste un'energia minima, chiamato stato fondamentale, che è diverso da 0. Questo è diverso da 0, perché è fatto da costanti che sono diverse da 0, tutte positive. Quindi, esiste un'energia di punto 0 pari a E uguale a 1. E quindi, di conseguenza, la particella confinata in questa buca non può essere ferma, non può stare ferma con velocità nulla. E, vabbè, questo cosa ci fa dire? Cioè che noi abbiamo qua il potenziale, qua 0 A, le pareti impenetrabili, quindi noi avremmo qua, non so, E uguale a 1, E uguale a 2, e poi molto più in alto E uguale a 3, e così via. Ora, ovviamente, E uguale a 2, è uguale a 4B, cioè 4 volte 1, quindi aumenta con una potenza al quadrato. Lo si vede anche dalla formula. Ciò che possiamo notare, appunto, è che man mano che si sale con l'energia, il numero dei nodi delle psi aumenta, perché questo riporta anche a una corda, sì, a una corda, appunto, confinata tra due pareti, cioè collegata a due estremi. Quindi diciamo che noi abbiamo tra 0 ed A, questa è la mia psi, e allora con E uguale a 1, cioè E1, scusate, ho questa, questa forma. La mia onda, E uguale a 2, ottengo questo. E uguale a 3, cosa sarà? Sarà una roba così, quindi con due nodi, 1, 2, 1, e così via, ok? Ovviamente gli estremi non contano come nodi. Poi, due qualsiasi funzioni psi con n e psi con n caratterizzate dai numeri quantici n ed m diversi, sono ortogonali, cioè l'integrale di psi con n x coniugato di psi con n x in d di x è uguale a 0 se m è diverso da n. Se invece fosse m uguale ad n, è la delta di Kronecker, scusate, è uguale a 1, e quindi noi possiamo dire che il tutto è uguale a delta di Kronecker, ok? Inoltre, possiamo dire che è normalizzabile perché adesso andremo a vedere come si calcola il coefficiente b, e quindi è anche un insieme completo, perché si può scrivere un f di x pari alla somma degli n di c con n delle psi con n in x. Queste sono proprietà, diciamo, che si hanno di queste autofunzioni. Andiamo a vedere, in effetti, come si calcola il coefficiente. Allora, abbiamo detto che è normalizzabile, è tra 0 ed a alla fine, dobbiamo fare l'integrale, del modulo di psi con n x al quadrato in d di x. Questo deve essere pari a 1, se è normalizzabile, cioè l'integrale tra 0 e a del modulo di b quadro per il seno di n pi greco a x in d di x. Portiamo fuori b, modulo di b quadro, a fratto n pi greco e si ha 0 n pi greco seno al quadrato di y in d di y, con la sostituzione y uguale a n pi greco x tutto fratto a. Facendo il conto del seno al quadrato, che vabbè, l'integrale del seno al quadrato è molto semplice anche da fare, otteniamo alla fine che otteniamo che questo integrale, chiamandolo i, sarà b quadro fratto a e per a fratto n pi greco per il risultato dell'integrale, che sarà n pi greco mezzi, cioè, quindi facendo i conti, n, n, n pi greco eccetera, e facendo, scambiando il tutto uguale a 1, l'avevamo già visto, ok, da questo, troviamo appunto che b è uguale a radice di 2 fratto a. Ed ecco il motivo per cui poi abbiamo sostituito questo valore nelle autofunzioni ennesime. Per qualsiasi curiosità, qualsiasi informazione, insomma, dubbio, fatelo pure sapere nei commenti. Grazie a tutti. Nel prossimo video spero di spiegare l'oscillatore armonico e poi il gradino di potenziale, così via.